Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo l'intervento dell'AIC, Associazione Italiana dei Calciatori, la Juventus minaccia di andare fino alle vie legali. Stiamo parlando dell'affare Bonucci e la scelta della Juve di metterlo fuori rosa perché non rientra più nei piani della società. Questo non ha fatto piacere a Leonardo Bonucci ma nemmeno all'Associazione Italiana dei Calciatori che è immediatamente intervenuta in difesa del suo tesserato perché naturalmente c'è di mezzo la Juventus. Ma la Juventus ha risposto con un comunicato dichiarando apertamente le proprie intenzioni che non sono proprio belle. Ma dato i precedenti che abbiamo visto, quando la Juventus si avvicina alle aule dei tribunali, i tifosi della Juventus premano sempre perché se ci va bene patteggiamo una pena come l'ultima che abbiamo visto. Prima di partire con la lettura e poi il commento della nota ufficiale della Juventus, scusatemi, vi invito innanzitutto a mettere un bel like perché ne vale davvero la pena e poi uscirà un nuovo format visto che tra due giorni inizierà il campionato. Quindi servono delle idee nuove per intrattenere anche voi. E naturalmente visto che tutti siamo sempre lì a giudicare, a dare delle pagelle, faremo un nuovo format che si chiamerà Top e Flop. Eccolo qui. Una breve intro di 5 secondi così almeno non scoccia e daremo i voti ai primi, anzi ai migliori 3 della partita e ai peggiori 3 della partita. Questo accadrà sempre dopo la partita, dopo ogni partita della Juventus, se la Juve giocherà la sera e allora questo video voi lo vedrete il giorno dopo. Se invece la Juventus gioca a mezzogiorno o alle 3 e allora nel post partita, nel video della sera, troverete questo contenuto. Quindi se ancora non siete iscritti al canale mi raccomando io vi invito innanzitutto a commentare questo video solo dopo averlo visto per intero. Condividetelo perché è molto importante e poi se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina perché così rimarrete sempre sempre aggiornati. Ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto su Instagram. Se volete potete contattarmi in privato, tanti già lo stanno facendo. Peter underscore pan underscore bianconero. Per questo vi ringrazio di cuore e torniamo a noi. Andiamo a leggere la nota della società che minaccia di andare fino in tribunale e poi la commentiamo assieme. Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calcatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall'accordo collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti. Quindi, non so voi, ma dopo queste parole, io mi cago sotto. Perché l'ultima volta che hanno detto queste precise parole abbiamo preso 170.000 euro di multa, 10 punti di penalizzazione, 3 o 4 poste, se non sbaglio, in classifica, retrocessi, e l'eliminazione dalle coppe europee da parte di Ceferin. Questo era l'ultima volta che la Juventus ha detto noi arriveremo fino all'ultimo grado di giudizio, ci difenderemo fino in fondo. Eccolo lì, che è arrivato il patteggiamento o accordo, che dir si voglia, perché a qualcuno piace chiamarlo accordo, a qualcuno piace chiamarlo patteggiamento. Quindi, già solo il fatto che loro minaccino di portare Bonucci fino alle sedi legali contro l'AIC, e questo mi preoccupa parecchio, ma andiamo avanti nella lettura. Inoltre, Juventus Football Club si auspica che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra i diritti dei calciatori ed esigenze del club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell'ambito della negoziazione del nuovo accordo collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A che avverrà in vista della stagione sportiva 2023, anzi 2024-2025. Quindi, la Juventus è pronta ad arrivare a discutere questa situazione perché effettivamente ha tutte le ragioni di questo mondo. Se io non faccio più parte dei piani del mio datore di lavoro e ho un contratto a scadenza, l'importante è che mi pagano fino all'ultimo giorno in cui io sto lì, mi permettono di svolgere le mie mansioni, dipende poi i diritti che hai tu scritto nel contratto, ma possono tranquillamente dirti da oggi tu sei a casa fino alla cadenza del contratto e io ti pago regolarmente il tuo stipendio. E basta. Capisco che in questo caso un professionista, se tu lo tieni fermo, vai a nuocere alla sua carriera, quindi l'allenamento lo può fare, può allenarsi con i ragazzi, può allenarsi con la squadra, ha il preparatore personale, non cambia niente, solo che lui in campo non ci va più. Allora interviene l'AIC, che non è mai intervenuta per nessun calciatore, però c'è di mezzo la Juventus, si parla di un possibile percorso che poi porti alle aule di tribunali, e quale migliore occasione se non questa qui, per non andare a raccontare di come la Juventus sempre si comporti male, non solo con gli avversari, non solo con gli arbitri, ma anche con i propri tesserati. E Bonucci ne sarebbe la prova. Bonucci è la prova di un calciatore ormai fallito, ormai che non ha più niente da dire, che è stato messo fuori Rosa perché ha la sua età e perché giustamente si deve dare spazio ai giovani per ricostruire, non l'ha presa bene e giustamente cerca di difendere i suoi diritti, diritti che non sono stati assolutamente lesi, nonostante l'intervento dell'AIC, ripetiamo. Comunque, la questione che a noi fa un pochettino paura è, nonostante la Juve abbia tutti i diritti e tutte le ragioni per poter mettere un calciatore fuori Rosa, qualora ne trovi le motivazioni, basta che tu lo paghi, l'idea di un possibile arrivo fino alle sale giudiziarie, alle aule giudiziarie, a noi ci preoccupa parecchio, perché finisce che dobbiamo ancora dargli noi un risarcimento milionario a Leonardo Bonucci, perché abbiamo dimostrato in questi anni che i legali rappresentanti della Juventus, indipendentemente da come si chiamano, indipendentemente da chi siano, arrivati ad un certo punto smettono di fare il loro lavoro. Detto questo, il video finisce qui, se sei arrivato fino a qua sei un supereroe, perché 8, 9, 10 minuti di video non tutti li tollerano, quindi per questo io a fine del video dico sempre questa frase. Detto questo, fammi sapere con un tuo commento che cosa ne pensi, naturalmente sulla questione Bonucci c'è poco da dire, è una scelta della società, che cosa ne pensi riguardo al fatto dell'intervento dell'AIC, Associazione Italiana dei Calciatori, e del fatto che la Juventus potrebbe spingersi per difesa personale, fino alle sedi opportune, rischiando poi così, sappiamo che arrivano i procuratori e i PM, e lì rischiamo un nuovo patteggiamento. Detto questo, il video finisce qui, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio. Ciao a io!